E' bianco, color latte il laghetto di Valentini a Sant'Andrea in Villis, ma sarebbe meglio dire color lattice. A ridurlo così è stato il lattice liquido fuoriuscito dalla cisterna che lo trasportava e che si è ribaltata in autostrada nella corsia sud, appena fuori la galleria di Novilara tra Pesaro e Fano, giovedì pomeriggio. Ma come ci è finito nell'acqua il lattice? Oltre al laghetto anche i fossi circostanti, il luogo dell'incidente ed addirittura due pozzi artesiani che servivano ai contadini del luogo per animali e campagna sono stati contaminati dalla sostanza chimica. Sono passate da poco alle 13 di giovedì quando un'autocisterna proveniente dal nord sbanda, sfonda il guardrail e si ribalta nella scarpata. Nella cisterna per l'urto si crea una falla dalla quale inizia a fuoriuscire la sostanza lattiginosa che impregna rapidamente il terreno circostante. Scatta l'allarme, ma fino al tardo pomeriggio non si riesce a travasare il liquido dalla cisterna. L'area è bonificata, ma i danni ambientali ci sono. I proprietari dei terreni circostanti attivano ARPAM e ASUR, i fossi e le acque dei pozzi sono bianchi. E le piogge dei giorni successivi ha fatto sì che il terreno, inzuppato della sostanza, lo ricacciasse fuori. E qui tutto attorno è tutto bianco? È tutto bianco, fino a Fenile. Se andate a vedere, ieri mattina, o l'altra mattina, era già arrivata a Fenile. Cioè c'è il forso che va giù, c'è il lago qui di Valentini che è pieno, è bianco. Tutto bianco? Tutto bianco. ARPAM ha effettuato prelievi di terreno ed acque sia venerdì mattina che oggi. L'indagine è al momento nel vivo. Nel frattempo, che arrivino però gli esiti degli esami, il Comune di Fano sabato mattina ha emesso l'ordinanza di divieto di prelievo delle acque dai pozzi per uso umano fino a nuova disposizione. Ma i residenti sono allarmati e preoccupati perché oltre che vivere una condizione di disagio, non sanno come abbeverare gli animali e irrigare il terreno. Ci sono le abitazioni che hanno, adoperano quest'acqua. Non avendo l'acqua comunale, la casa qui adopera l'acqua del pozzo. Perché i pozzi sono tutti pieni di questo latte? Sono bianchi, tutti pieni. Non possiamo adoperarla. Loro hanno detto di non adoperarla. L'Azor ci ha detto di non adoperare i pozzi. Il Comune so che ha fatto un'ordinanza sabato, però è un grosso disagio per noi perché sinceramente non si fa. Voi qui avete attività agricole, avete animali? Io ho animali qui. Ho gli animali, ho i cani, ho i polli, queste cose qua. L'orto, vabbè che adesso l'acqua non serve, però... Ve la portate da casa l'acqua? Per forza. Gli animali non possono lasciarli senza acqua. Quindi voi chiedete che si ripristini quanto prima questa situazione? Certo, certo.